Ciao dalla GDC di San Francisco, io sono Andrea Materna e come c'è? Stefano Talarico Che ha provato, ah, lui ha provato il gioco dell'Oca Giuliva Untitled Goose Game No, ci tenevo a dirlo, il gioco così non la chiami papera, Anitra, Oca L'hai provato ieri in realtà Al Dev Days Days of the Devs Quella roba lì, che ha organizzato tutti gli anni Team Shaffer Con il raggruppamento di giochi Esatto E com'era? Ridevi molto? Sì, sì, è bellissimo Cioè, questo fatto che premendo X sul pad l'Oca fa eh Cioè, me l'hanno già venduto così Starlazza E' bellissimo Cioè, Metal Gear in cui al posto di Snake hai un'Oca E con molte meno seghe mentali sulla fantapolitica E su tutte quelle cose che annoiano tutti dal 95 a questa parte Dici così perché non capisci lo case, magari War has changed Picnic has changed Magari quando lei fa qua sta dicendo è la guerra La guerra No, beh E in realtà la demo è molto breve Ed è un po' anche quello che si vede nel trailer Che gira da qualche mese oramai Cioè, nei panni dell'Oca bisogna importunare un povero fattore contadino Quello che è E organizzare un picnic alle sue spalle Ma letteralmente alle sue spalle Perché, voglio dire, tu lo importuni facendo Ehm, gli rubi le chiavi del recinto Gli rubi le zucche, le carote La radio Ehm, lo bagni con l'irrigatore Ehm, è così E' stupido E' molto divertente però Cioè, è proprio una roba che ti mette il sorriso Ti fa sorridere E che gli vuoi dire E' bello E poi c'è E poi sei un'Oca Cioè, sei un'Oca tutto il tempo Che meraviglia Ce l'hai con me? Ok Ciao